Sai che quando nasciamo abbiamo tutti la stessa attitudine al disegno che sviluppiamo in maniera velocissima e con grandi progressi fino all'età di 5 anni. Se pensi che un lattante non sa tenere una matita in mano e che un bambino di 5 anni riesce a sviluppare la figura umana correttamente attraverso una sintesi segmentata, pensa che progressi affatto. Ma poi cosa succede? Perché a 5 anni la maggior parte della popolazione smette di progredire nel disegno e ci sono adulti di 50 anni che disegnano come bambini di 5 anni? Perché smettiamo di pensare con il lato destro del cervello e si innesta il lato logico-analitico, cioè quello della parola, del linguaggio scritto e del computo. Il lato sinistro del cervello prende il sopravvento sul destro annichilendolo, facendolo assopire. Alcuni di noi però riescono a uscire da questo tunnel di sapienza logica e a disegnare per sempre.